Ciao ragazzi, in questo video parleremo di Bloom, un gioco su Telegram che ci permette di guadagnare dei token che in futuro saranno scambiabili con la loro criptovaluta, un po' sulla falsariga di Notcoin. Se vi siete persi Notcoin è quella criptovaluta che era possibile guadagnare gratuitamente sull'omonimo gioco su Telegram, ovvero Notcoin, che poi alla sua uscita, dopo essere stata anche listata su Exchange come Binance e vari altri, ha permesso di fare queste percentuali che vediamo qui a schermo da capogiro. Praticamente è uscita più o meno un mese fa, se non ricordo male, ed è già al cinquantesimo posto per capitalizzazione di mercato. Brevemente vediamo che il progetto di Bloom è quello di portare ad avere un Exchange di criptovalute decentralizzato, in realtà una via di mezzo tra un centralizzato e un decentralizzato, direttamente su Telegram. Vediamo che su Twitter ha 2.1 milioni di followers e che l'11 di giugno hanno raggiunto i 20 milioni di giocatori. Per poter giocare bisogna cliccare il mio link qui sotto in descrizione che vi riporterà a questa pagina e se non vi dovesse uscire in automatico il messaggio di benvenuto, cliccate sul menu e poi Start. Da qui clicchiamo sul Launch Bloom. Ci apparirà questa schermata. Per poter guadagnare i primi punti basterà andare su Tasks e completare queste missioni. Ogni missione ci darà dei Bloom Point che andranno a sommarsi a quelli che possiamo farmare. Ogni 8 ore infatti è possibile cliccare qui su un tasto con scritto Farm. Vedete che a me sta già farmando e che tra 14 minuti si resetterà e potrò claimare i token che ho farmato e metterne a farmare di nuovi. Inoltre si somberanno anche questi al Drop Game tramite il quale potremmo guadagnare dei Bloom Point. Adesso proverò a fare una partita da computer, cosa difficilissima, perché una volta cliccato su Play dovrò cliccare tutti questi verdi. Adesso con il Blue posso frizzare lo schermo e cliccare gli altri senza mai però andare a cliccare le bombe. Se dovessimo cliccare una bomba, adesso lo faccio per dimostrazione anche se sicuramente perderò dei token. Ecco cliccando una bomba mi si resetterà il punteggio. In realtà non perché lo resetta completamente ma perché ti scala 100 punti. Avendone guadagnati meno di 100 ovviamente te li leva tutti. Adesso finirò questa partita, farò uno score bassissimo da computer, infatti è pressoché impossibile fare molti punti. Ecco, quanti non fatti. Ecco, ne ho guadagnate 56, una cifra bassissima perché considerando che giocando dal telefono con i pollici si riescono a fare più o meno 200 punti ogni partita. E adesso posso decidere se andare avanti giocando altri ticket oppure invitare degli amici per ricevere sempre altri ticket. Per ricevere altri token bisognerà o invitare degli amici fino a un massimo di 10 amici e riceverete un ticket per ogni amico oppure bisognerà entrare ogni giorno senza mai saltare nemmeno un giorno su questo gioco e ogni giorno vi verranno dati dei ticket. Ad esempio il primo giorno un ticket, il secondo giorno due ticket, il terzo giorno tre ticket e così via. Fino ad arrivare 7 ticket che è il massimo e ogni volta che continuerete ad accedere vi darà sempre 7 ticket. Io attualmente sono a 7.918 punti e andando avanti con il tempo quando uscirà la criptovaluta sui vari exchange sarà possibile convertire questi punti in quella criptovaluta. Ovviamente non sappiamo quanto sarà la conversione se 1 a 1, 1 a 100, 1 a 1000 e non sappiamo nemmeno quando avverrà di preciso il listing sui exchange. Sappiamo solamente che i founder che ci sono dietro sono degli ex dipendenti di Binance e che questo progetto è rientrato nei Binance Labs, quindi nell'incubatore di Binance. Quindi a mio parere è molto affidabile. Poi ovviamente non bisogna spendere un euro a parte il proprio tempo per fare questo giochino ogni giorno ma in realtà con 7 ticket anche giocando ogni giorno non vi leva più di 5 minuti. poi bisognerà vedere quando verrà listata su qualche exchange, a quanto verrà listata e quindi quanto sarà il guadagno. Chi vivrà vedrà. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!